Il monitoraggio continua con strumenti sofisticati e con le analisi degli esperti dell'Università di Padova e Firenze e intanto si definiscono gli interventi da mettere in atto per la sicurezza del centro abitato. La regione è pronta a investire 5 milioni di euro, di cui 1 milione e 200 mila euro già stanziati sulla frana di Perarolo. I movimenti sono ancora troppo rapidi per intervenire in sicurezza ma c'è una lista di priorità. Il primo step sarà dedicato agli interventi per aumentare la sicurezza delle abitazioni, così da renderle vivibili anche in condizioni in cui ora è prevista l'evacuazione, dettaglia l'assessore regionale alla difesa del suolo, Giampaolo Bottacin. Nel piano abbiamo inserito, oltre a rinnovati sistemi di sicurezza, di cui il primo star radar è già stato installato nei giorni scorsi, nuove opere di difesa passiva dell'abitato, drenaggi del corpo frana e potenziamento dell'argine. Seguiranno quindi ulteriori interventi. A 13 chilometri in linea d'aria invece si studia il corpo frana a monte della Galleria San Giovanni a mezzo canale di Val di Zoldo, Veneto Strade ha annunciato la realizzazione di una pista d'accesso provvisoria necessaria per le successive opere di messa in sicurezza.